Benvenuti al meteo. È ancora l'anticiclone a comandare il tempo sul nostro territorio, sempre asciutto e le attuali previsioni ci dicono che sarà ancora così per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 febbraio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, con cielo spesso coperto e frequenti riduzioni della visibilità in pianura e in qualche vallata prealpina, ma in dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio invece, come vediamo, più sole. Temperature in leggero aumento, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo nubi basse e nebbie, inizialmente. A seguire cielo via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, poi sarà sereno o al massimo velato. Anche qui niente piogge. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.